carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un principio cardine della vita degli esseri umani è vivi e lascia vivere ma ascoltando il punto stampa di ieri con draghi speranza e figliuolo pare essere dimenticato dirò di più draghi ha annunciato che è iniziata la caccia ai cinquantenni essendo secondo le sue parole la categoria più a rischio è incredibile come le fasce più a rischio siano state prima quella degli ultraottantenni fino a scendere di scaglione d'età man mano avanzavano le vaccinazioni immagino che di questo passo tra breve la categoria più a rischio sia quella dei bambini appena nati ascoltando questa sintesi dalla viva voce dei magnifici tre si ha quasi la sensazione di venire introdotti molto velocemente in una spietata dittatura in particolare spaventano per così dire i toni perentori di draghi dico spaventano non tanto perché incuntano timore per carità ma perché vengono tollerati in quello che dovrebbe essere un paese democratico anzi a dire il vero sembrano più i toni di un severo e inflessibile padre che impone determinate regole ai suoi bambini ma noi non siamo figli di draghi né dei serpenti abbiamo ogni diritto di decidere liberamente e senza pressione alcuna cosa fare o meno del nostro corpo e se accettare o meno trattamenti sanitari tanto più se al momento siamo in salute non è una questione sanitaria è una questione di democrazia in conclusione sentiremo la risposta di speranza e draghi riguardo l'obbligatorietà o meno del vaccino quando verranno tolte le mascherine e sullo stato di emergenza e farò una breve considerazione vaccinarsi è fondamentale se voi pensate la confusione non è se sul vaccinarsi o meno ma è su quale tipo di vaccino usare a seconda delle varie circostanze quindi ricordiamocelo questo sempre la cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola secondo l'eterologa funziona io stesso martedì sono prenotato per fare l'eterologa perché io ho più di 70 anni come voi sapete beh la prima la prima astrazeneca che ho fatto ha dato una risposta di anticorpi bassa e allora mi si consiglia di fare l'eterologa quindi l'eterologa funziona per me funziona per quelli ha ancora di più ancora più vero è che funziona per quelli che hanno meno di 70 anni e meno di 60 anni quindi secondo punto terzo se una persona che ha meno di 60 anni ha fatto la prima dose di astrazeneca e vuole e egli viene proposto come si come si come è stato stabilito di fare l'eterologa gli o lei viene proposto di fare l'eterologa ma questa persona non vuole per qualche motivo farsi quel vaccino questa persona è libera di fare la seconda dose di astrazeneca pur che abbia un parere del medico e il consenso informato informato bene la cosa peggiore da fare in quei casi e non farsi nessuna seconda dose quindi è raccomandato l'uso dell'eterologa per queste persone ma se non vogliono per un motivo per l'altro possono farsi la seconda dose di astrazeneca quarto punto bis ora la sfida principale non è vaccinare i dodicenni o i tredicenni bisogna farlo per carità dove è cominciata questa campagna si va avanti ma è andare a cercare tutti coloro che hanno più di 50 anni e non si sono ancora vaccinati questa è la sfida che noi abbiamo oggi da vincere sono non mi ricordo se più di due milioni non so quanti sia il generale figliolo sa benissimo quanti sono ma questi sono quelli che si ammalano e si ammalano in maniera grave e quindi devono essere vaccinati lei non si è mai espresso in maniera pubblica su questo lo stato di emergenza secondo lei andrebbe prolungato dopo la data del 31 luglio grazie no è vero non mi sono mai espresso ma se avessi avuto intenzione di esprimermi mi sarebbe passata la voglia dopo aver letto l'articolo del professor cassese ieri che richiama tutti quelli che si vogliono esprimere prima al fatto che non si può decidere lo stato di emergenza con un mese e mezzo d'anticipo un'emergenza è un'emergenza che si verifica quindi lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza come è noto nel nostro paese è stato disposto l'obbligo per gli operatori sanitari e tutti coloro che hanno a che fare con le attività di cure d'assistenza e questo lo rivendichiamo come una scelta giusta fatta dal governo in questo momento non c'è una previsione di altro tipo sull'obbligatorietà e vediamo una risposta molto positiva da parte dei nostri concittadini e continuiamo a confidare che la campagna continuerà con grande energia e con grande determinazione ma voglio dire un'ultima cosa guardate che nonostante tutta questa confusione è straordinario come la popolazione non mostri intenzione di diminuire la vaccinazione di non vaccinarsi non è straordinario rispetto ad altri paesi è uno dei comportamenti più ammirevoli che ci possiamo che ci stanno davanti quindi ricordiamocelo questo noi indubbiamente come dire dobbiamo essere pronti come abbiamo fatto stasera e faremo altre volte a chiarire ogni confusione ogni cosa però effettivamente il comportamento delle persone è veramente costante straordinario e voglio ringraziare naturalmente tutti gli italiani per questo notiamo che draghi sembra o perlomeno finge di essere meravigliato non aver trovato poca opposizione ai vaccini rispetto ad altri paesi e allora se realmente così fosse che bisogno c'è di mettere commissario all'emergenza covid un generale e di continuare a fargli dirigere le vaccinazioni mandando i militari casa per casa a cercare i non vaccinati ha detto del buon figliuolo solo il 27,9 per cento della popolazione ha fatto entrambe le dosi nonostante tutta questa propaganda pressioni e ricatti ci sarà un motivo no dalle parole di draghi e speranza si evince senza ombra di dubbio che l'obiettivo non sono né le mascherine né lo stato di emergenza ma sono semplici mezzi per arrivare a vaccinare la popolazione se le lite raggiungono i loro obiettivi di numero di vaccinati allora il buon padre draghi potrà concederci il permesso di respirare liberamente almeno fino a che morte non sopraggiunga in caso contrario dalle parole di speranza si potrebbe intuire che cercheranno di introdurre un obbligo vaccinale incostituzionale per tutti un po come hanno fatto con i sanitari ma non abbiamo nulla da temere rimaniamo fermi decisi e forti nel difendere i nostri diritti umani e la libertà più saremo e più la caccia casa per casa sarà difficile per quei buoni figliuoli prima di concludere volevo ringraziare la kiani life che in collaborazione con la h price porta in italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese masaru emoto e del dottor william reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di h2o e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la kiani life quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin